Siamo con Daniele Esposito, neoeletto sindaco di Albino, giri pure la Clessidra. Età? 34 anni. Titolo di studio? Laureato in giurisprudenza. Professione? Avvocato. Contento di essere sindaco? Sì, molto. Diciamo che è stata una lunga gavetta, nel senso che ho fatto per tre anni il consigliere comunale, capogruppo di minoranza dal 2011 al 2014 e dopo dieci anni da vice sindaco ho avuto l'onore di ricoprire questo ruolo prima come candidato e oggi come sindaco di Albino. Aiuto la gavetta? Assolutamente sì, perché senza conoscere almeno da consigliere, ma soprattutto anche da assessore vice sindaco il comune di Albino, è davvero difficile amministrarlo. Lo noto io che comunque facendo il passaggio da vice sindaco a sindaco ero già ampiamente nella macchina amministrativa, ma oggettivamente il ruolo del sindaco è molto più impegnativo e richiede una maggiore attenzione e senza avere delle basi prima idonee per poter comprendere il funzionamento della macchina comunale e i bisogni che sono necessari per rispondere quindi alle esigenze dei nostri cittadini sarebbe davvero impossibile. Che tipo di elezione è stata? È stata una elezione per quanto riguarda la fase della campagna elettorale molto rispettosa, eravamo in tre candidati e nei quattro dibattiti pubblici che abbiamo avuto i toni tra noi tre sono sempre stati moderati e rispettosi dell'avversario e questo sicuramente è stato importante e mi auscopico che sarà così anche durante questi cinque anni, quindi una forma di rispetto reciproco, di confronto anche acceso e aspro ma sempre nel rispetto delle persone. Il giorno poi diciamo dello scrutinio è stato un giorno molto importante in quanto i dati che ci giungevano dalle varie sezioni erano contrastanti, noi avevamo come obiettivo quello di vincere al primo turno e quindi dovevamo superare il 50% più uno dei voti validi e avevamo delle sezioni in cui eravamo al 48-49% e altre invece in cui eravamo abbondantemente sopra il 60%. Questo ovviamente ci ha indotti a molta incertezza ed infatti appunto alla fine del lunedì sera abbiamo avuto il risultato che abbiamo superato questo fatidico 50% di 10 voti. Poi rispetto alla seconda classificata abbiamo 1400 voti circa di scarto, però sopra il 50% è di 10. Quindi è stato un pomeriggio al cardiopalma. Ma c'è stata anche la questione del riconteggio, giusto? Allora è ovvio che con uno scarto così basso gli altri due candidati hanno fatto delle valutazioni e poi però visto che comunque coloro avessero fatto ricorso al netto dei tempi comunque non brevi di un ricorso il risultato non sarebbe stato il capovolgimento del risultato, bensì andare al ballottaggio. E quindi penso sia stata una scelta saggia da parte loro quella di non proporre ricorso perché sarebbe stato, avrebbe portato Albino in una grande incertezza e quindi meglio così. A preferenze ribaltate lei avrebbe chiesto il riconteggio dei voti? No. Anche con uno scarto minimo di 11? No perché in questo caso il tema è 10-11 voti sopra il 50% ma 1.400 voti da recuperare quindi anche se fossimo andati al ballottaggio in questo caso parlando di posizioni invertite sarebbe stato un recupero veramente difficile e lo stesso è valso per quanto riguarda la mia avversaria. Sarà sindaco a tempo pieno? Allora, dedicherò al comune tutto il tempo necessario mantenendo però la mia professione di avvocato. Ho la fortuna di avere il mio ufficio al di là della strada e quindi posso fare avanti e indietro dai due uffici. Sicuramente, mi sto accorgendo in questi due mesi, dovrò trovare un equilibrio tra i due mondi, però equilibrio che è sicuramente possibile da trovare visto che ci sono tanti altri avvocati che fanno i sindaci anche di grandi città, quindi è sicuramente gestibile. Perché hai scelto di candidarsi alla carica? Allora, questo bisogna fare un po' di passi indietro. Nel 2008, diciamo, mi sono affascinato dalla vita politica, dalla vita amministrativa locale in un momento in cui si chiamava Nascita Sociale, in cui il comune incontrava i neo-diciottenni, consegnava la Costituzione e spiegava una serie di questioni relative al funzionamento della macchina amministrativa. Rimasi affascinato da quell'incontro, mi informai e poi entrai in quelli che loro si chiamavano i giovani padani. Nel 2009 c'erano le elezioni comunali ad Albino, nella sezione della Lega decise di candidarmi come consigliere comunale. Non fui eletto immediatamente, ma nel 2011 divenne appunto consigliere comunale e anche capogruppo. In quei tre anni di minoranza, riuscì a intessere grandi rapporti con gli altri componenti della minoranza, in particolare Fabio Terzi e Davide Zanga, rappresentanti della lista civica e dell'allora PDL, e da lì nacque la coalizione che nel 2014 sostenne Fabio Terzi. Io allora ero segretario della sezione cittadina della Lega e contenni anche un buon risultato come preferenze e quindi diventai vice sindaco, assessore ai servizi sociali. Successivamente, quindi maturando l'esperienza da vice sindaco, quindi sempre a fianco comunque del sindaco e presente nelle scelte fondamentali del nostro territorio, è nata poi nel 2019 la riconferma e quindi tra il 2023 e l'inizio del 2024 la mia candidatura. Quindi come un percorso naturale che ha portato a questo risultato. Da 1 a 10, quanto conta l'indennità stabilita per legge per tentare l'elezione a sindaco? Nel caso di Albino credo siano oltre 4.000 euro al mese. L'indennità netta che percepisco attualmente è di 2.900 euro circa e non è un elemento rilevante nel senso che sicuramente è un importo importante quello che attualmente percepiamo. Cinque anni fa era circa 1.000 euro in meno, poi con la legge è stato incrementato non a carico del comune ma a carico dello Stato, però amministrare un comune richiede una passione che va al di là della questione economica perché ci sono tanti sindaci che lo fanno per pochissime centinaia di euro, hanno ovviamente alcune responsabilità come i comuni delle grandi città, quindi come Albino e altri ovviamente meno perché Albino è un comune complesso da governare, però tutti noi sindaci abbiamo grandi responsabilità sia civili che penali e quindi è una scelta più di cuore che di denaro. Io fortunatamente ho la mia professione dalla quale ho un reddito soddisfacente, è pubblico quindi non ho problemi a dirlo perché abbiamo l'obbligo della trasparenza, quindi tutti gli anni pubblichiamo i nostri redditi, quindi non è un elemento vivante. Sicuramente avere un'indennità non irrisoria è utile per i comuni piccoli dove l'impegno è tanto e se prendevano 200-300 euro oggettivamente era proprio esclusivamente per spirito di servizio. Gli ex sindaci che poi diventano vice sono ritenuti dagli esperti un po' ingombranti in senso politico, è d'accordo? Può succedere, nel senso che dipende tutto dal rapporto tra ex sindaco e nuovo sindaco. Nel nostro caso io sono convinto che questo non sarà un problema perché con Fabio Terzi abbiamo percorso dieci anni da vice sindaco e sindaco e prima tre anni e mezzo di minoranza insieme abbiamo intesuto un rapporto anche di amicizia, di stima reciproca e ho visto sia durante la campagna elettorale sia in questi primi mesi di mandato che l'inversione dei ruoli è rispettata e quindi non penso che questo sarà assolutamente un problema. Avete sensibilità diverse? Proviniamo ovviamente da storie diverse, abbiamo un'età differente e questo ovviamente determina che siamo persone differenti che hanno un approccio anche all'amministrare diverso nei modi ma non nell'obiettivo, nel senso che abbiamo condiviso un percorso, abbiamo condiviso un programma che abbiamo realizzato nei primi dieci anni e abbiamo condiviso un nuovo programma che andremo a condividere a realizzare nei prossimi cinque. Ci illustrano un po' le caratteristiche dei suoi assessori e le deleghe che gli ha assegnato loro? Sì, allora appunto Fabio Terzi è il mio vice sindaco ed è assessore all'edilizia privata, urbanistica e ecologia che sono le materie principali che aveva anche quando era sindaco. Stefano Vismara è una new entry assoluta, nel senso che prima non era neanche consigliere comunale e oggi è assessore al bilancio e alle società partecipate. Sono molto contento della sua presenza perché in questi due mesi ha già dimostrato veramente molta voglia di imparare il funzionamento del bilancio comunale, lui è commercialista quindi conosce quelli delle società private ma lo vedo molto molto sul pezzo e sarà sicuramente una risorsa. Mirko Mazzoleni, già assessore per due anni e mezzo della passata amministrazione ai lavori pubblici e anche alla transizione energetica. È una persona molto preparata nel settore, molto presente e che ha quell'attenzione che serve al comune di Albino per avere da una parte una vision e dall'altra anche la concretezza di portare a termine i cantieri. Visto che ne abbiamo molti e anche grandi, la sua presenza è fondamentale per essere di stimolo agli uffici. Abbiamo poi Michela Laini, assessore al commercio, alla biblioteca e alla pubblica istruzione, già presidente del consiglio nella passata amministrazione. Michela è una donna molto intelligente, con voglia di fare, che è una commerciante avendo un esercizio commerciale in Mirko Mazzoli, quindi nel centro di Albino, che però ha anche un'attenzione particolare per il mondo dell'istruzione. Sono quindi convinto che potrà fare molto bene. Infine abbiamo la più giovane della squadra, classe 1999, Sara Vedovati, che è assessore allo sport e agli impianti sportivi. Lei è una sportiva, nel senso che negli anni ha gareggiato anche a livello nazionale e poi è una laureata in scienze motorie, ha esperienza professionale nel mondo sportivo e quindi sono sicuro che anche lei saprà dare il giusto apporto a questo mondo molto importante, perché abbiamo più di 30 associazioni sportive sul territorio e potrà essere davvero un ottimo elemento. Io invece ho trattenuto i servizi sociali che erano l'assessorato che ho avuto sempre in precedenza, il sistema bibliotecario, quindi la rappresentanza sovraccomunale nel mondo delle biblioteche, quindi anche all'interno della rete bibliotecaria, la protezione civile, la sicurezza e il personale. Non finisce qui però perché accanto agli assessori ho nominato anche quattro consiglieri delegati che per noi come amministrazione saranno fondamentali, in quanto hanno anche delle deleghe importanti. La differenza sostanziale tra il consigliere delegato e l'assessore è l'indennità, perché non percepiscono l'indennità e poi non votano in giunta, ma possono partecipare. Quindi di fatto escludendo questi due elementi, quello economico ovviamente ha un suo rilievo, quello del voto in realtà no, perché nel momento in cui portano i punti nell'ordine del giorno, li valutiamo insieme e quindi poi passano sempre all'unanimità, è davvero importante. E chi sono questi consiglieri delegati? Sono Ubaldo Colleoni, che mantiene la delega alla Valle del Luglio, il raggruppamento delle cinque frazioni al di là del serio, per noi è molto importante. Patrizia Zola, che avrà la delega al turismo. Formenti Gilberto, alla delega alla cultura. E poi abbiamo Emanuela Testa, con la delega alle politiche giovanili. Quindi quattro settori, tutti e quattro molto importanti, che vedranno delle sinergie notevoli tra i consiglieri delegati, la giunta e l'intero consiglio comunale, per raggiungere i nostri obiettivi, i nostri programmi di mandato. Se non ho capito male, c'è una delega ai servizi bibliotecari che tiene lei? È una delega alla biblioteca che tiene una sua collega? Michele Laini tiene l'assessorato alla biblioteca, quindi ha una rilevanza comunale. Io mantengo invece la delega al sistema bibliotecario, ossia quel raggruppamento di 43 comuni, che va da Torre Boldone, Val Bondione e Val di Scalve, che ha come obiettivo quello di coordinare le biblioteche di questo sistema e vincere bandi, partecipare a bandi e vincerli per portare nuove risorse sul territorio. Perché li avete separati? Questo è avvenuto anche nel primo mandato dell'amministrazione Terzi, nel secondo invece no, l'assessore aveva anche la delega. Questo perché ritengo opportuno in questo primo mandato mantenere la presenza mia sui tavoli sovraccomunali al fine di avere uno sguardo d'insieme di tutto il territorio, quindi che va oltre Albino. Quindi è una questione di visione sovraccomunale, infatti sono sia nel sistema bibliotecario sia nell'ambito territoriale dei servizi sociali. Certo. Puoi indicare i tre punti chiave del suo programma? Il nostro programma è un programma, diciamo, corposo, quindi di inviare solo tre punti non è semplice, però il primo sicuramente è il rilancio del centro storico, inteso in questo caso via Mazzini, le vie laterali è la stessa, come attraverso importanti investimenti pubblici. Abbiamo portato a casa, siamo riusciti a portare a casa l'insediamento della casa di comunità in via Sant'Anna, quindi in pieno centro, e andremo a effettuare una importante operazione anche nell'ex monastero di Sant'Anna, lì adiacente. Lì abbiamo intenzione di inserire la casa della musica e un centro studi moroniano, quindi servizi che porteranno nuove persone a frequentare il centro di Albino, animandolo quindi anche con beneficio per il commercio. Andremo poi a intervenire sull'ex municipio, attualmente sede della direzione didattica, quindi del centro dell'istituto comprensivo, che a inizio agosto si sposterà nella nuova sede a Desenzano Comenduno, lasciando vuoto questo edificio che verrà riempito dal prolungamento della biblioteca. Quindi anche qui nuovi servizi, nuove persone presenti nel territorio. E ancora altri interventi in piazza San Giuliano, uno finanziato dal PNRR, che è un intervento a carattere di ambito, che vedrà la ristrutturazione di questo edificio Casa Clara per l'accoglienza delle donne in difficoltà socio-economica. E infine, abbiamo partecipato a un bando anni fa e siamo in una gradatoria che scorre pian piano, per la realizzazione, nell'ex Casa della Misericordia, dell'Accademia delle Arti. Quindi tutti questi interventi, molto importanti anche dal punto di vista economico, hanno come unico obiettivo quello di portare più persone nel nostro centro, quindi per rivitalizzarlo e per favorire anche il commercio di vicinato. Quindi questo sicuramente è un primo punto. Accennato all'ampiamento della biblioteca, prevedete anche un aumento di personale? Allora, questo sarà da valutare perché nella nostra idea abbiamo la possibilità di avere questi spazi di studio e di co-working aperti anche H24 con ingressi, diciamo, tramite card e quindi sotto forma di autogestione. Quindi l'obiettivo non sarà aver lì dei libri, ma aver lì degli spazi idonei per gli studenti, sia superiori o universitari, affinché possano studiare da una parte e dall'altra spazi di co-working. Quindi potrebbero essere spazi che non necessiteranno di nuovo personale. Questo poi lo valuteremo man mano mentre andremo a realizzare questo progetto. Nel programma dei suoi avversari c'era qualcosa che le piaceva? Allora, diciamo che il nostro programma era un programma molto puntuale, dettagliato, fatto di alcuni principi e poi, diciamo, esplicati in cose concrete. I loro programmi invece erano più astratti, quindi meno concreti. Sicuramente abbiamo in alcuni punti c'erano degli elementi di sovrapposizione che quindi, diciamo, sono condivisi da tutti. Ad esempio, noi abbiamo come nostro punto la riduzione della fascia di rispetto dell'Oasi della Val Tredina, punto presente anche nel programma di gente comune, non presente invece nella lista Paola Benigni sindaco. Quindi su alcuni punti ci sono delle concordanze, su altri meno. Sicuramente riconosco a Paola Benigni e al suo gruppo di aver avuto una capacità di raccogliere, diciamo, un buon movimento giovanile che, credo, potrà essere utile a tutta la cittadinanza. La sua prima decisione importante per il Paese? Allora, il giorno stesso in cui ho avuto l'investitura, quindi martedì 11 giugno, ho incontrato una delegata ANCI per confrontarci rispetto alle politiche giovanili e alle possibilità di partecipare a bandi da parte del comune di Albino. Da quell'incontro è nata la partecipazione a due bandi importanti, che vedremo poi risultati a breve, e quindi sicuramente questo è stato l'attenzione per le politiche giovanili come primo punto del mio inizio mandato. Ovviamente adesso insieme gli assessori stiamo valutando tutta una serie di misure da adottare questo autunno per poi partire anche nel 2025 con il primo bilancio vero di questa amministrazione, perché ovviamente questo del 2024 è la prosecuzione dell'ultimo anno dell'amministrazione terzi e quindi stiamo costruendo tutti gli elementi per arrivare pronti per il 2025. Tra i doti che ritieni di possedere per amministrare nel modo migliore? La pacatezza, nel senso che sono una persona decisa ma pacata, quindi difficilmente alzo la voce, ascolto tutti, poi prendo le mie decisioni e penso che questo sia molto importante. La determinazione, perché se sono diventato sindaco a 34 anni vuol dire comunque che quando mi pongo degli obiettivi poi li raggiungo. E la competenza, nel senso che ho una competenza professionale legata al mondo dell'avvocatura e ho una competenza diciamo guadagnata sul campo in questi dieci anni di amministrazione partendo dai servizi sociali che sono sicuramente il settore più complicato da gestire, soprattutto in questi anni pensiamo anche solo al periodo pandemico, ma che grazie al fatto che ero anche vice sindaco mi ha consentito di avere una visione a 360 gradi e quindi la competenza. Il tratto principale del suo carattere? Il tratto principale del mio carattere direi la sicurezza, nel senso che sono una persona sicura di sé. Un difetto? Un difetto a volte sono troppo buono e questo può essere rischioso essere troppi buoni. C'è un ruolo strategico che la città di Albino occupa o potrebbe occupare nel contesto della provincia? Allora, sicuramente a livello di Val Seriana occupare ruoli importanti che secondo me sono, e secondo noi, sono da sviluppare sempre di più, che sono l'ente capofila dell'ambito sociale, quindi della media bassa Vale Seriana, riferimento per 18 comuni e come dicevo prima, è l'ente capofila del sistema bibliotecario, quindi questi due sono aspetti molto importanti a livello di Valle Seriana. Essere, diciamo, centro fondamentale della Val Seriana determina ovviamente un peso specifico importante anche a livello provinciale. Sul tema sicurezza, cosa si sente di dire per la sua città? Albino è un parese che ha un tasso di criminalità molto basso, basta andare a vedere i vari dati, che ci giungono annualmente, e nel corso di questi anni i reati denunciati sono calati rispetto invece a Bergamo città, dove c'è stato sempre un incremento. Questo però non vuol dire che ad Albino vada tutto bene, abbiamo sicuramente dei problemi legati al vandalismo e legati a situazioni anche di spaccio in zona stazione. Il nostro obiettivo sarà quello, da un lato, di incrementare la videosorveglianza, elemento per noi molto importante perché la presenza delle telecamere disincentiva ovviamente i criminali o gli atti di vandalismo. E dall'altra parte, non appena arriverà il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri, riprenderemo a utilizzare il tavolo della sicurezza, che è un tavolo coordinato da me con la presenza del comandante dei Carabinieri, comandante della polizia locale ed eventualmente la possibilità di estenderlo anche alle altre forze dell'ordine, per poter lavorare in modo sinergico per il contrasto alla criminalità presente sul nostro territorio. Un tweet per descrivere un estraneo albino? Un tweet, quindi un commento breve, direi che albino è una perla da scoprire. Entriamo nel personale, se me lo permette, nel 2023 a luglio scrisse un post su Facebook sulle sue condizioni di salute a proposito di un tumore. Il pericolo è scampato? Sì, diciamo che ho vissuto due mesi molto intensi, fine luglio, agosto e settembre, dove sono stato recuperato sostanzialmente per una trentina di giorni a intervalli non continuativi e ho fatto la chemioterapia a Papa Giovanni, dove mi sono trovato veramente bene, personale, è stato molto preparato, ma anche a livello umano molto presente. Fortunatamente finita l'ultima chemioterapia, il 26 settembre 2023, ho iniziato a fare tutti i miei controlli che faccio periodicamente, ne ho fatto uno anche circa un mesetto fa, è andato bene, quindi ovviamente sarò monitorato per i prossimi anni, però al momento tutto bene. Lei è giovane, come ha reagito alla diagnosi? Diciamo che è stato molto traumatico, nel senso che all'inizio si pensava fosse un linfoma, invece poi quando feci l'appuntamento con l'oncologa, perché appunto avevamo rilevato che non ero un linfoma, ma era un tumore, alla mattina del martedì, mi ricordo ancora, la dottoressa dopo avermi visitato mi disse abbiamo un posto e la ricoveriamo oggi pomeriggio e quindi fui ovviamente abbastanza scioccato da questa cosa perché era doveva essere una semplice vista, invece alla fine è stato l'inizio del ricovero e poi diciamo della terapia e quindi della guarigione. Quindi diciamo è stato un momento scioccante, però devo dire che anche per come si sono posti i medici e poi per tutto il calore umano che ho ricevuto l'ho vissuta comunque dal punto di vista psicologico bene. Aveva anche scritto che le preghiere erano bene accette, lei prega? Sì, sì, io sono un cattolico praticante e sicuramente la fede mi ha aiutato in questo periodo. Da quell'esperienza com'è cambiata la sua vita? Allora sicuramente ho capito quali sono le priorità della mia vita e anche ciò che diciamo è meno importante, quindi questo sicuramente e poi quel post a cui faceva riferimento ero indeciso se pubblicarlo o meno, però mi dissi essendo una carica pubblica e essendo sicuramente assente per un certo periodo, ho ritenuto importante comunicarlo e questo devo dire è stato per me fondamentale perché ho ricevuto davvero tanto tanto affetto dagli albinesi e non solo e quindi ecco questo è stato molto importante e molto bello e mi ha fatto vedere che alla fine quello che ho fatto in questi anni da amministratore o per questioni extra comunali ha seminato bene, quindi tante persone insomma mi sono state vicine. La sua esperienza con la malattia, la sua esperienza di assessore ai servizi sociali, come declina queste appunto esperienze politicamente verso la gente che in questo momento sta vivendo con la sanità un rapporto non proprio idillio con la mancanza di dottori, sul territorio, tante cose insomma. Sì, sicuramente una mia caratteristica comunque è quella di essere empatico, quindi di cercare di entrare in sintonia con il mio interlocutore e quindi questo è un primo elemento perché far sentire a proprio agio l'interlocutore magari anche giustamente arrabbiato perché non riceve un servizio è un primo punto. Fortunatamente poi a livello locale di Albino noi abbiamo una situazione di medici di medicina generale ottima nel senso che sono presenti, ovviamente poi c'è il tema diciamo della più generale della sanità sul quale so che fortunatamente la regione Lombardia sta cercando di intervenire, però ecco sicuramente qua ad Albino siamo fortunati. Il suo politico di riferimento? Allora, io sono entrato in politica, se si può utilizzare questo termine, grazie a Roberto Maroni, all'epoca era ministro e diciamo nell'ascoltare insomma i suoi discorsi mi rimasi affascinato. Uno attua e purtroppo ovviamente sappiamo che ci ha lasciato e attualmente è Luca Zaia. La tessera di partito è sempre stata quella della Lega? Sì, 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 mi sono iscritto a 18 anni. Salvini è destinato ad essere rimpiazzato? Queste sono valutazioni che verranno fatte nei congressi. Prima del congresso nazionale ci sarà il congresso regionale della Lega Lombarda, dopodiché capiremo insomma il futuro della Lega. Che libro sta leggendo? Allora, al momento nessun libro, ho interrotto durante le lezioni il secondo libro di Dune e conto di rileggerlo nella breve vacanza di cinque giorni che andrò a fare a metà agosto perché ovviamente la documentazione da leggere a livello comunale è notevole, gli incontri sono tanti, quindi il tempo a disposizione per la vita privata è sicuramente ridotto. Scrittore preferito? Scrittore preferito direi John Martin. Quello del trono di spade. Se avesse 30 minuti a disposizione, in che istante del passato le piacerebbe tornare? Se avesse 30 minuti a disposizione, direi nel momento della proclamazione, non della proclamazione, ma nel momento in cui abbiamo avuto la certezza della vittoria perché è stato un momento veramente molto bello in cui i miei sostenitori mi hanno alzato al cielo e è stato proprio un momento veramente bello. È un momento meno politico? Il matrimonio con mia moglie. Il giorno più bello della sua vita? Il matrimonio con mia moglie, sicuramente sì. Grazie sindaco. Grazie a lei.